Buongiorno a voi, c'è un punto che voi dovete capire assolutamente, nel 2007 è cominciata una crisi che non avevamo mai visto prima. Questa crisi, a mio modo di vedere, non solo il mio ovviamente, è una crisi che cambia in maniera radicale il modo in cui l'economia mondiale funziona. È una crisi strana, dicevo mai vista prima, avevamo visto delle crisi nate sul mercato azionario, per esempio quella del 1929, avevamo visto crisi volute e generate e gestite dai governi, per esempio quella statunitense del 1980-1985, ma non avevamo mai visto una crisi nata sul mercato interbancario. Quindi occorre che noi ci interroghiamo sulle caratteristiche specifiche di questa crisi, sulle sue origini, sulle sue possibili conseguenze, perché questa per voi potrebbe essere la crisi potrebbe essere la crisi che cambia il vostro futuro. Mi spiego con un esempio. Fino al 2007 l'economia mondiale cresceva, cresceva a un tasso diverso da paese a paese. Gli Stati Uniti crescevano del 4-4,5% l'anno, la Germania cresceva del 3-3,5% l'anno, l'Italia cresceva del 2-2,5% l'anno, la Spagna non me lo ricordo, però crescevamo. Quindi la generazione che vi ha preceduto, le generazioni che vi hanno preceduto in azienda, sono generazioni abituate a gestire l'impresa in condizioni di economia che cresce. Ora non dirò che è facile gestire un'impresa quando l'economia cresce, sarei sciocco, però voi capite, la domanda per beni di consumo cresce, la spesa per beni di investimento cresce, la spesa pubblica cresce, è tutto sommato fattibile crescere anche noi nella nostra azienda. Ben diverso il gioco quando il mondo esterno non cresce. Dal 2008 circa la domanda per beni di consumo da parte delle famiglie cresce poco e da noi diminuisce, quindi la spesa per beni di consumo in Italia dal 2008 è incaduta. La spesa per beni di investimento è incaduta, le imprese disinvestono, non rimpiazzano più quella parte di capitale che costituiva la loro base produttiva, addirittura. Le esportazioni, che voi sapete essere la quarta componente della domanda aggregata, si crescono un pochino, leggete questa farsa sui quotidiani, le esportazioni italiane cresciute dello 0,2%, ma per favore, 0,2% è tutto dentro l'errore statistico di misurazione. E soprattutto non cresce, e anzi diminuisce, la quarta componente della domanda aggregata, che è la spesa pubblica. Discuteremo poi le ragioni per cui ciascuno di questi quattro agenti economici spende sempre meno, ma per adesso il punto importante da capire è che voi siete la generazione che fa da spartiacque, tra un mondo in cui l'economia cresceva e un mondo in cui l'economia potrebbe stagnare per molti e molti anni. Guardate questo lucido, questo lucido vi deve ispirare, vi manda diversi messaggi, il primo messaggio che vi manda ovviamente, l'avete già visto, l'avete già accorto, vero? non è una mappa del mondo eurocentrica. Qui c'è un messaggio molto pesante per voi, molto potente. Il mondo non è più eurocentrico, non so per quanto, ma sicuramente non è più così. Il mondo è il mondo, è probabilmente pacificocentrico. Il secondo messaggio che vi manda è che sembra sfocata questa mappa, vero? Non è sfocata perché siamo dei pelandroni, è sfocata perché io volevo una mappa dalla quale non fosse possibile identificare i confini specifici degli stati nazioni. Quindi ovviamente uno capisce dov'è grosso modo il Canada o l'India, ma il concetto di stato-nazione in questa mappa è sfumato. Questo è un principio che discuteremo a lungo per capire in che modo sarà fatta questa economia nuova. Terzo, il lucido è in inglese, la presentazione ovviamente è in italiana, ma i lucidi sono in inglese, questo è un messaggio molto forte per voi, è indispensabile che voi comandiate questa lingua. Il titolo dice modi di uscire da questa recessione. La grande recessione l'hanno chiamata i colleghi statunitensi, così come avevamo chiamato grande depressione quella del 29, questa la chiamiamo la grande recessione. Perché grande? Per darvi un po' un'unità di misura, un punto di riferimento, un benchmark direste voi. Tenete conto che nel 2009 il prodotto interno lordo del Giappone cadde rispetto al 2008 del 5,3%, quindi se nel 2008 il Giappone aveva prodotto 100 unità di prodotto interno lordo nel 2009 ne produce 94,7%. Il secondo paese al mondo per sofferenza quell'anno, l'anno della grande recessione, è l'Italia, che perde il 5,1% del prodotto interno lordo rispetto al 2008. Quindi una grande recessione in un mondo che non è più eurocentrico, nel quale lo Stato-Nazione comincia a diventare un concetto che sfugge, che sfuma, con delle hints, dei cenni, delle prospettive di una stagnazione secolare. Questa espressione, stagnazione secolare, è un'espressione già usata negli anni 30, è stata ripresa da un signore che si chiama Larry Summers. Larry Summers fu il capo dei consiglieri economici del Presidente Clinton, Presidente di Harvard, poi fatto uscire da Harvard dalla Presidenza, perché aveva detto qualcosa che non era esattamente in linea con le politiche di genere di Harvard, detta bene questa, di conseguenza si è rimesso a studiare e nel novembre del 2013, quindi un anno e mezzo fa a una riunione del Fondo Monetario Internazionale, lui presentò un lavoro nel quale si poneva questo quesito. Ma stiamo vedendo l'inizio di una stagnazione secolare? Cioè di un tasso di crescita del prodotto interno lordo mondiale mediamente nullo? Questa è la differenza tra la recessione e la stagnazione, in recessione un paese sperimenta una caduta del prodotto interno lordo rispetto all'anno precedente, in una stagnazione l'economia non ha delle cadute drammatiche come quelle del 2009 in Giappone, negli Stati Uniti, in Italia, perfino in Germania, ma è lì che vivacchia, ecco perché io irrido a tutti coloro i quali sono lì a dibattere sui quotidianucci se il PIL è cresciuto del più 0,2 o del più 0,1, se le esportazioni cresciute del più 0,2 ce la faranno a tirare fuori l'Italia dalla crisi? No, no, no. Tenete conto che un paese che crescesse, il cui PIL crescesse diciamo del 3% l'anno, raddoppierebbe quel PIL in 30 anni, ok? 3% l'anno raddoppiere del PIL in 30 anni, un paese il cui PIL crescesse dello 0,2%, lei mi dice, mi sta guardando con quel sorriso ironico, mi sta dicendo lascia perde, è stagnazione secolare, ottimo. Ora perché questo quadro così nero? Mi ha scritto ieri o l'altro ieri qualcuno, un Milax studente, ci farebbe piacere se lei venisse in una grande casa petrolifera a parlarci delle prospettive economiche, sa, per darci un po' di entusiasmo. Gli ho risposto, dico scusi, lei basta che scrive Fabio Sdogati dentro Google, viene fuori un sito che si chiama scenarieconomici.com, santi Dio mi vuoi invito a fare un discorso, documentati per vedere cosa ti dirò, no. Entusiasmo, no. Illusioni, no. Fanfaronate, no. Analisi, scientifiche, al meglio delle nostre possibilità, come siamo abituati a fare al Politecnico di Milano, perfino ad Architettura, circa. Bene. Allora, è importante per me che io riesca, cosa posso dire, a spezzare questa, questa, questa aura di, ma sì, poi sa giusta, tanto poi, prima o poi, passa, la crisi, no, la luce in fondo al tunnel. Prof, ma stiamo vedendo la luce in fondo al tunnel? Sì, speriamo che sia un treno. Te che vedi la luce in fondo al tunnel? No. Voi avete una vita davanti, il primo e il più grande errore che potreste fare è dire, ma sì, tanto poi si aggiusta. No, lo devi aggiustare te. Quindi questo è il grande messaggio che io vi mando oggi. Il messaggio che vi mando oggi è, guardate che tutte le generazioni che vi hanno preceduto dalla fine della Seconda Guerra Mondiale fino al 2007, sono cresciute e hanno gestito le imprese in un ambito di crescita. Voi? No. i segni si vedono, i segni si vedono. Guardate l'emigrazione post laurea. L'emigrazione post laurea è una cosa che è cresciuta drammaticamente negli ultimi otto anni. Articolo sul New York Times dall'altro ieri, Embracing the Other Italy. Leggitelo il New York Times, hai diritto a 10 articoli gratuiti al mese. Emigrazione di laureati prevalentemente, enorme. Perché? Perché da noi crescita non c'è. Se una persona non si nasconde ai problemi che ha di fronte, la probabilità di superare quei problemi è molto più alta della probabilità che riesca a superarli se facesse finta che non esistono. Mi sembra banale, però è bene ripeterlo, no? Far finta che uno non ha un problema è un disastro. Far finta che io non ho l'età che ho vuol dire che mi faccio del male prima o poi. Giusto? Mi vai in palestra, ti tiro su 120 kg come una volta? No. Sarà bene che io mi renda conto che 120 kg non più. Ma manco in otto volte. Quindi non spaventatevi. Non c'è niente di cui spaventarsi. C'è da capire che dovete prendere in mano l'apparato produttivo industriale di questo paese. Lo dovete fare voi, perché chi vi ha preceduto ha dimostrato ampiamente di essere incapace a lavorare in un ambiente in stagnazione, con domanda aggregata decrescente, con i prezzi in caduta. Loro, chi vi ha preceduto in azienda, non ha mai visto la deflazione, non ha mai visto i prezzi in caduta. Non sanno cosa vuol dire gestire un'azienda quando i prezzi cadono, non quando crescono poco. Loro sono abituati all'inflazione, loro pensano ancora agli anni 70, agli anni 80, agli anni 90, quando i prezzi del nostro paese crescevano del 15-18%. Non sono abituati a ragionare in termini di prezzi che cadono dello 0,1, 0,2, 0,5, 1% l'anno. Qual è l'effetto sull'economia di una cosa così? Quello che noi vogliamo fare per voi è mostrarvi un modo di ragionare proprio a partire da questo concetto di stagnazione secolare. Oggi non vedete un trattamento tecnico di problemi specifici, per esempio, come è fatta la funzione delle esportazioni? No. Oggi vediamo un quadro. È un quadro, questo ve lo immaginavate già, fuori dal coro. Il coro di quelle che io chiamo le vergini e i vergini vestali dell'ortodossia, qui non canta, qui canta il pensiero razionale. Si capisce? Bene, cominciamo. Allora, tanto per avere una misura delle cose, è importante che voi abbiate una misura delle cose, no? Dice, ma sdrogati, dai, per piacere, lei ci continua a parlare di una crisi enorme. Che vuol dire una crisi enorme? Beh, ecco, vuol dire questo. Queste barre misurano sulle ascisse di quanto ciascun paese sulle ordinate ha perso in termini di prodotto interno l'ordo pro capite fra il 2007 e il 2013. Quindi io prendo il prodotto interno l'ordo nel 2007, il prodotto interno l'ordo, scusate, pro capite nel 2007, il prodotto interno l'ordo pro capite nel 2013, guardo la differenza, paese per paese, e la esprimo in termini percentuali. Cioè, nel 2013, di che percentuale era aumentato il prodotto interno l'ordo pro capite rispetto al 2007 in Italia? Di quanto? Meno 8,5%. Quindi nel nostro paese, in sei anni, abbiamo perso l'8,5% del prodotto interno l'ordo pro capite. In media, ovviamente, lei può averci guadagnato e lui può averci perso il 15, non è importante. Questo è un numero che deve sconvolgervi. Non solo perché Grecia a parte, poi parleremo anche della Grecia, è il più grosso tra tutti quelli che abbiamo deciso di riportare. Ma perché è negativo? Perché se voi andate avanti altri sei anni così, nel 2019 avrete un reddito pro capite banalmente del 17% più basso di quello che era nel 2007. Questa è follia, non può andare avanti così. Non è possibile che vada avanti così. Quando io guardo il mio reddito rispetto a quello di mio padre, io vedo un numero che, non lo so, il conto non l'ho mai fatto, poi sono conti difficili, ma 10, 20, 30, 40 volte più alto. Io sono stato fortunato, una rondine non fa primavera, bisognerebbe guardare le grandi medie, però voglio dire, il prodotto interno l'ordo pro capite in Italia fra il 1970 e il 1977 sarà aumentato grosso modo del 12-15%. Potete andare a vedervelo ovviamente, www.istat.it, statistiche nazionali, quei dati li avete. Questo è anormale, non è normale, non è normale che un paese perda oltre l'8% di prodotto interno l'ordo pro capite in 8 anni. Non è normale neanche che chi sta dal lato destro della riga verticale, che identifica una crescita nulla, sia cresciuto così poco. Quei numeri sono poco, ma prendete, non lo so, gli Stati Uniti che è tradizionalmente il paese che cresce di più al mondo e più rapidamente in media. In sei anni il prodotto interno l'ordo pro capite aumenta del 6%, cioè l'1% l'anno, ma è poco. Un reddito pro capite che cresca dell'1% l'anno chiede che passano 95 anni prima che il reddito raddoppi. Non è sopportabile, non è tollerabile, o no? Non va bene, è la vostra vita. Viene sempre fuori qualcuno, qualcuno dei miei amici di pseudo sinistra, in quale a questo punto dicono, eh ma Fabio dai, la ricchezza non è tutto nella vita, vero? Immaginatevi la miseria. Noi non vogliamo la ricchezza per la ricchezza. Il reddito è benessere. Se poi lei decide di spenderselo in un modo che secondo lui non produce benessere, ce l'hanno fatti i suoi. Ma per noi il reddito è importante. Ci sono colleghi molto bravi, molto più bravi di me, Joe Stiglitz per esempio, il quale dice no, dobbiamo tirar fuori nuove misure del benessere. Le tireremo fuori. Per adesso quello che io vedo è che dal 2007 abbiamo creato 3 milioni e mezzo di disoccupati. 3 milioni e mezzo di disoccupati. È un numero spaventoso. È una quantità di dolore familiare, personale, economico, affettivo, enorme, intollerabile. Voi dovete fare qualcosa. Bene, questo per quanto riguarda l'effetto negativo di questa crisi, se volete andare a guardarvi gli effetti paese per paese, io comincio col darvi il tasso di crescita previsto per gli anni 2015 e 2016 per paesi ad alto reddito pro capite. Allora, in questo lucido vediamo le previsioni del Fondo Monetario Internazionale, le ultime sono di gennaio 2015, di crescita nel 2015 e nel 2016 del prodotto interno lordo per paesi ad alto reddito pro capite. Stati Uniti, 3,3 e mezzo per cento. Abbiamo detto prima, in 30 anni raddoppieranno il loro reddito pro capite, assumendo che la popolazione rimanga grosso modo quella che è. Adesso guardate all'Europa. Germania, in un anno l'1,3 e nell'altro 1,5. Facciamo 1,5 di media. È una miseria. L'1,5 per cento di crescita è miserabile. La Germania non ha mai fatto l'1,5 per cento di crescita annua dalla fine della seconda guerra mondiale fino al 2007. C'è qualcosa che non funziona. Poi andiamo a vedere i francis, un per cento. Andiamo a vedere i nostri amici spagnoli, 1,8, 2 per cento. Andiamo a vedere l'Italia, 0,4 e 0,8. Questa non è una crescita, questa è una stagnazione. Quindi l'intuizione di Larry Summers al Fondo Monetario Internazionale nel novembre 2013 sembra essere un'intuizione particolarmente alzaccata per quanto riguarda l'Europa. Fate il collegamento con il lucido di apertura, la mappa che non è più eurocentrica. Trovate in queste tavole una sorta di sostegno all'idea che forse l'Europa non è più il centro del mondo. Il Giappone lo metto per completezza, non chiedetemi nulla del Giappone, per favore so poco del Giappone, quindi non vorrei discuterlo, ma avendo messo su i paesi d'altro detto pro capite, ovviamente andava messo anche il Giappone. Guardate adesso questo lucido successivo dove riporto le previsioni del Fondo Monetario Internazionale relative al tasso di crescita del prodotto interno lordo nei paesi cosiddetti ad economia emergente. Allora, i paesi ad economia emergente, io ne ho presi un sotto insieme ovviamente, sono il Messico 3%, il Brasile 0,5-1%, l'India 6%, la Turchia 3,5%, l'Indonesia fra 5 e 6%, il Vietnam fra il 5 e il 6%, la Cina sopra il 6%. Sentite la differenza di questi numeri? La percepite? Un'Indonesia che cresce al 6% in 15 anni avrà raddoppiato il proprio prodotto interno lordo. L'Indonesia è un produttore di petrolio il quale importa petrolio, perché quello di sua produzione nazionale non gli basta tanto veloce è il processo di industrializzazione. È come che ci sia un mondo là fuori molto diverso da quello a cui siamo abituati, da quello autocelebrativo, è prof, è vero che come si mangia in Italia non si mangia da nessuna parte? la risposta è perché? Non ti piace il tailandese? Dice non l'ho mai provato. Ah, prof ma lei veramente le piace il cibo giapponese? A me sì, a te no, e mica ti obbligo a te a mangiarlo, non lo devi mangiare, però non venirmi a dire che il cibo italiano è il migliore al mondo, è ottimo, è eccellente, ma migliore è una cosa che dipende da lei, da me, come ci ha spiegato la teoria del consumatore, vero? La teoria del consumatore ci ha spiegato, il consumatore è l'unico che conosce la propria struttura di preferenze, solo lui sa cosa gli piace e cosa no. Ecco, cominciate a debellare questi mostri. Prof, è vero che l'Italia ha il 75% dei beni culturali al mondo, ma sei scemo? Ma come misuri, come compari il valore dei beni culturali? Vale più il Colosseo o la Grande Muraglia? Muso. Non fare questi ragionamenti, questi sono ragionamenti che lasciamo alle casalinghe di Voghera. La mappa di apertura di questi lucidi, il mondo, dovete pensare al mondo e se pensate al mondo scoprite che voi state crescendo in maniera asfittica e che le opportunità, certo che ci sono anche qui, ma ci sono anche altrove e forse di più. Quindi voi dovete pensare, l'espressione è sciocca perché la usano tutti, come cittadini globali. Voi dovete pensare a voi stessi che create valore, occupazione, gettito fiscale nelle vostre imprese sfruttando le opportunità del mondo, non quelle del paesino in cui siete nati. Vedete che grande differenza. Qualcuno dice, eh prof, però la Cina sta rallentando, prima cresceva al 10%. Vabbè, sta rallentando. in tanto, è ovvio, prima di più, adesso di meno. Solo che sono 25 anni che cresce a tassi fra l'8 e il 10%. 25 anni? Sono tanti, eh? Bene. Com'è che sto mondo si è ridotto così? Com'è cominciata questa storia? Perché Sdogati parla subito del 2007? Bene. Come comincia questa crisi? Il metodo scientifico dice, se vuoi capire cosa sta succedendo, vai all'origine delle cose, vero? Cerca di capire quali sono le cause. Bene. La crisi, così come l'abbiamo vissuta, si è manifestata, non ho detto è cominciata, ho detto si è manifestata il giorno 9 agosto del 2007. Il 9 agosto del 2007 una banca che si chiama BNP Paribas, che è la proprietaria della Nazionale del Lavoro, no? Convocò una conferenza stampa per annunciare che tre dei suoi fondi comuni di investimento non erano più in grado di rimborsare le quote ai sottoscrittori che ne facessero richiesta. Che cos'è un fondo comune di investimento? è un tot di persone che si mette insieme, si propone come raccoglitore, il tot singolare di liquidità da parte dei risparmiatori, questi denari vengono messi insieme e questo dà al fondo la possibilità di fare investimenti che il signor Rossi da solo, il signor Bianchi da solo non potrebbero mai fare, per esempio comprare azioni di 2000 aziende nel sud-est asiatico. Ecco questo è un fondo comune di investimento, quindi noi conferiamo questi denari al fondo, il fondo li investe, questioni di trasparenza in questo momento non mi riguardano, non la vorrei discutere, presumibilmente le quote che ciascuno di noi acquista nel tempo se l'investimento è stato ben fatto crescono di valore, quando io voglio uscire da questo investimento chiedo il riscatto e il rimborso delle mie quote, giusto? Normale. Quando un fondo, una banca fa una conferenza stampa per annunciare che tre dei suoi fondi comuni di investimento non sono più in grado di rimborsare le quote a sottoscrittori, chiamatela come volete, io con la delicatezza che mi contraddistingue la chiamo una bomba atomica. Voi capite cosa vuol dire? che migliaia e decine di migliaia di sottoscrittori non possono rientrare in possesso dei loro denari. è un fatto inaudito, inaudito nel senso di mai udito prima. Una banca convoca una conferenza stampa per far sapere a tutti che non c'ha un soldo? È come il macellaro che mette fuori un cartello e dice la carne è finita. Il macellaio? Non esiste. Il macellaio finisce la verdura. Non finisce, giusto no? Finisce la carne, se no che macellaio è? È un macellaio senza carne. La banca senza soldi che banca è? Noi non l'avevamo mai vista una cosa così, però molti tra noi capirono che se Peppa Ribà annunciava pubblicamente in conferenza stampa questa situazione, ciò poteva essere dovuto a un solo fatto, che lo sapevano già tutti. Che lo sapevano già tutti chi? Quelli come lei, cioè le altre banche. Notate che noi chiamiamo questa crisi la crisi del credito, del credit crunch. Allora, che cosa stava succedendo? Per spiegare un attimino bene l'origine di questa crisi e il credit crunch, io vi devo illustrare rapidamente prima cos'è il mercato interbancario. Va bene? E per illustrarvi cos'è il mercato interbancario, voglio fare una simulazione del tipo, no, facciamo così invece. Per illustrarvi bene cos'è il mercato interbancario e come funziona, comincio dandovi la distinzione fra banche commerciali e banche di investimento. Attenzione, pre-2000, pre-anno anno 2000, va bene? Quindi non sto parlando dell'attualità, non sto parlando neanche del 2007, sto parlando di tutto il periodo che va dalla grande depressione del 29 fino all'anno 1999, capirete poi perché. Come funzionava il sistema? Ma il sistema funzionava nel seguente modo. Il legislatore, in particolare il congresso degli Stati Uniti, voi sapete che il centro dell'impero è gli Stati Uniti e che quindi ciò che si fa negli Stati Uniti poi viene copiato, scopiazzato, adeguato, adottato negli altri paesi prima o poi. Allora io guardo agli Stati Uniti perché è lì che nasce questa distinzione. Nel 1933 il congresso degli Stati Uniti passa il Banking Act, la legge bancaria, la legge bancaria la quale dice, d'ora in avanti le banche potranno essere di due tipi, banche commerciali e banche di investimento. Le banche commerciali saranno le banche presso cui si serviranno le famiglie e le imprese. Quindi la famigliola sdogati aprirà il suo conto corrente presso una banca commerciale. Le banche di investimento non hanno il diritto di servire le famiglie. Si capisce? Sentite che distinzione durissima? Quindi esistono le banche commerciali che hanno diritto a servire le famiglie, aprire conti correnti, le banche di investimento no. Le banche commerciali in altre parole devono essere luoghi relativamente tranquilli, in cui non si gioca la roulette ogni volta che si chiede al Politecnico di versarti lo stipendio su quella banca, perché sai che rimane lì. La banca commerciale deve essere quindi un luogo safe, sereno, tranquillo. I soldi in possesso della banca commerciale, per esempio quelli che lei versa ogni mese, soldi che ruba suo nonno, una parte se li fuma, quell'altra parte li versa su un conto corrente in banca commerciale. Beh, quei soldi non possono essere investiti. Non fatemi mai sentire dire la bestialità tipica di chi parla senza aver pensato prima, che non è una cosa che noi vogliamo qua dentro, che le banche raccolgono e poi investono. Non è vero. Fino al 1999 incluso, le banche commerciali non possono investire. Non fatemi neanche sentire l'altra bestialità, un pochino più piccola ma sempre bestialità, secondo cui le banche commerciali raccolgono i depositi e poi danno a prestito. Non è vero. Questa è una banca commerciale, eh? Questo è lo stipendio di Fausto qui, i cavalieri non li avete fatti, eh? Quindi lei cosa fa? Lei deposita il suo stipendio, chiede alla sua azienda di depositarlo in banca commerciale. Lei è una banca commerciale, cosa fa di questi soldi? Non li può investire, gliel'ho già detto, non li può dare a prestito, che ne fa? La risposta è, li dà in deposito tutti alla banca centrale. È vero? Slogati tutti tutti, ma no, un qualcosina se lo tiene, c'è sempre una vecchietta che fa un bancomat per mezzo chilo di zucchine o un tossico che ha bisogno di contante, tantino di contante ovviamente se lo tiene, ma il grosso lo mette in deposito presso la banca centrale. Perché? Perché ogni euro di deposito presso la banca centrale è un'autorizzazione implicita a dare a prestito, non questi soldi, non i soldi suoi, no, questi vanno in banca centrale, a dare a prestito per un ammontare di, adesso butto là un numero non mi chiedete di giustificarlo, di circa 40 volte. Ok? Quindi ogni euro che la banca commerciale mette in deposito presso la banca centrale può essere prestato con una leva di circa 40 volte. Quesito tipico vostro che siete giovani, cattolici e comunisti è ma come fa da prestito se questi soldi non ce l'ha? La risposta tipica, tecnica è che svegliete lo scoperto di conto corrente o no? Il modo in cui la banca commerciale dà a prestito è da uno scoperto di conto corrente o se volete, questo forse vi è più familiare, da un libretto di assegni, giusto? Ce l'avete un libretto di assegni? No. Ce l'avete il bancomat? Che differenza c'è fra un bancomat e un libretto di assegni? Lo sapete? Nessuno. Voi fate un accordo con la banca, la banca dice puoi spendere fino a 3.000 euro al mese o 500, 30.000, dipende l'accordo che fate, l'importante è che tu me li ridi alla fine del mese, è vero? Non devi averli momento per momento, quindi lui cosa fa? Lui prende lo stipendio, lo dà alla banca commerciale, la banca commerciale lo dà alla banca centrale, adesso puoi erogare prestiti, come fa a erogare il prestito? Compra libretti di assegni da un tipografo, da prestito a lui che ci si compra la macchina, ce l'hai i soldi per comprarti la macchina? No, se no non avresti chiesto il prestito, giusto? Bello eh? Ti piace? Cosa ho detto? Ho detto che il credito è ciò che fa girare il mondo, è vero? O il debito se preferisci, lui non acquisterebbe l'automobile se la banca, chiedo scusa per quel gesto di poc'anzi, era utile, è vero? Lei non acquisterebbe l'automobile se la banca non le facesse un prestito, ma non le ha dato il 10, 20, 50 mila, non so che tipo di automobili lei ha comprato, non le ha dato questo, questo si chiama moneta ad alto potenziale, e perché è ad alto potenziale? Perché ogni unità di questa genera 40 volte potere di acquisto, bello eh? Stupendo, questa è la banca commerciale, vedete al servizio delle famiglie, al servizio delle imprese, bello, perché lui può essere un signore che vuole comprare l'automobile e poi c'è una signora che vuole aprire un'azienda, è vero? Va in banca con i suoi progetti, le sue cose, le sue carte, le sue mappe, i suoi tecnici, il geometro, l'avvocato, esegue, cara banca, guardi che bell'investimento, ah, 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 lei fa l'investimento, la banca commerciale dà a prestito, è un'altra cosa, è vero? È quello che voi chiamate equity e bond, senza sapere che vuol dire ovviamente, ma questa è un'altra cosa. Che bello, banca commerciale deve essere un luogo talmente sicuro per le famiglie e per le imprese che il governo, il governo comunista degli Stati Uniti, sapete che negli Stati Uniti c'è il comunismo, il governo garantisce quei depositi, lo Stato, per ogni deposito che non superi una certa cifra, il governo si impegna a rifondere il depositante nel caso in cui la banca fallisca. Stato, governo, comunismo. Nel vostro paese è il consorzio interbancario per la garanzia dei depositi o del risparmio, mi pare, cioè un consorzio di banche che mette insieme dei soldi, cosicché nel caso che una di loro fallisca, tutte le altre attingono a quella che fallisce, attinge a questo fondo finanziato anche da tutte le altre per rifondere questo amico che purtroppo ha scelto la banca sbagliata che è fallita. Ora, perché parlo di Stati Uniti comunisti? Perché ogni volta che si sente parlare di Stato in questo nostro paese, a tutti vengono dei gran pruriti politici. Lo Stato è il luogo che garantisce la certezza del diritto, l'equità delle transazioni, la regolarità della vita civile, questo è uno Stato. Negli Stati Uniti il governo fa questo. Molto interessante questa cosa. Tra parentesi, voi sapete, immagino, che il consorzio interbancario garantisce i vostri depositi fino a 103 mila erotti euro, quindi se avete depositi in una banca commerciale fino a 103 mila euro, tranquilli, anche se va a fuoco non succede nulla, i vostri soldi li rivedete, se avete più di 103 mila euro siete dei deficienti e quindi è giusto che vi si fottano i soldi, perché 103 mila euro in un conto corrente non si tengono, il soldo va fatto fruttare. Una famiglia che tiene oltre 100 mila euro in un conto corrente che rende nulla è una famiglia che non sta agendo in maniera economica e siccome l'ignoranza costa è giusto che la paghi. battutaccia a parte, un altro livello di garanzia per le banche commerciali e per noi che ci serviamo dalle banche commerciali qual è? È che le banche commerciali nel caso in cui non abbiano liquidità, arriva l'imprenditrice e dice mi fate un prestito che voglio aprire un negozio, una raffineria, una cosa, nel caso in cui non abbiano liquidità possono indebitarsi presso la banca centrale? Cosa vuol dire possono indebitarsi? Dicono, guardatemi per favore, signora banca centrale, l'imprenditrice mi ha chiesto 400 euro di prestito, sta seguendo? Mi presta per favore 10 euro, giusto? Sì o no? 10, quindi la banca commerciale si indebita per 10 euro per dare una prestito 400 sotto forma di che? Di moneta ad alto potenziale, di scoperto di conto corrente, o di assegno, o di libretto di assegni, o di banco, va bene? Avete mai preso un prestito? Però i vostri sì, a casa avete preso dei prestiti, vanno dato gli sordi? Il babbo, la mamma è venuta a casa con una borsa della spesa, con i soldi dentro? Sì o no? No, con cos'è venuta a casa? Con un sorriso, la commercio industria mi ha dato uno scoperto di conto corrente di 200 mila euro, quindi possiamo comprare un appartamento nuovo, oppure mi hanno dato uno scoperto di conto corrente di 600 euro, quindi posso fare l'abbonamento in palestra, ma questi la banca commerciale non vi darà mai in prestito, li li date attraverso il Bancomat perché gli li date subito, giusto? Entro un mese. Ah e dove vanno questi 10 euro che la banca commerciale prenda prestito da me? Io glieli do? È una scrittura contabile, lei adesso ha 10 euro di debito con me, ci pagherà delle commissioni, degli interessi, non è importante, però questo debito da 10 le consente di dare credito per 400, su cui poi farà delle commissioni, prenderà degli interessi, eccetera. Bene, il senso che è me sta a far morire, ancora non facciamo neanche la prima riga di questa cosa, se sei ignorante che devo fare io? E le banche di investimento non possono raccogliere liquidità, non hanno diritto ad accendere depositi per le famiglie e per le imprese, non hanno diritto di rivolgersi alla banca centrale e dire ci presta per favore dei soldi che vogliamo fare un prestito, no, perché? Perché per definizione voi siete rischiose e la banca centrale che è un'istituzione pubblica non rischia, quindi se volete liquidità voi banche centrali ve l'andate a trovare sul mercato, cioè emettete obbligazioni, è così che le banche fanno i soldi, no? Fanno, scusate, raccolgono liquidità o attraverso i depositi delle famiglie e delle imprese o emettendo obbligazioni, mi state guardando come se io stessi bestemmiando, cos'è un'obbligazione lo sapete, sì, io sono una banca, devo tirar su dei soldi per mettere in banca centrale che mi facciano da riserva obbligatoria così da dare a prestito alle imprese, questi non ce l'ho perché quei maledetti del congresso non mi consentono di aprire conti correnti, perché quindi i suoi stipendi vanno sempre in banche commerciali, mai in banca di investimento, io sono Goldman Sachs, sono Lehman Brothers, sono Abax Bank, banca di investimento, cosa faccio? E metto un'obbligazione, un'obbligazione è semplicemente una promessa, un foglio di carta in cui c'è scritto a chi mi riporta sto foglio di carta non prima del giorno tot, io gli restituisco una cifra maggiore, attenzione, se l'ho investita bene la cifra che mi ha dato, perché se l'ho investita male la banca di investimento è rischiosa, non è come la banca commerciale, un modo finalmente possiamo arrivare con cui le banche di investimento raccolgono liquidità, ma anche le banche commerciali ovviamente, è passare attraverso il mercato interbancario, che cos'è il mercato interbancario? Il mercato interbancario è un luogo ovviamente ideale, ideale nel senso che le transazioni avvengono per linee telefoniche, nel quale ci si scambia liquidità, quindi quando una banca di investimento ha bisogno di liquidità, quello che fa è la mattina, grosso modo fra le 5, le 8, le 5, le 7, dura tutto il giorno questa attività, ma il grosso della liquidità viene scambiato a quelle ore, va sul mercato interbancario e prende a prestito, esempio? lei come si chiama? Alessandro, ciao Alessandro sono Fabio, ciao Fabio come stai? Mi capite? Sentite che non c'è niente di formale, sentite che ci conosciamo, senti ma poi tuo figlio gli è passata la tosse? Sta bene? Ah sai cosa volevo dirti? Che siamo andati? Non lo vedo ovviamente, ma so chi è, so che probabilmente, no probabilmente, so per certo, per ipotesi che lui è di Deutsche Bank, senti sai che sono andato, io ero un ristorante bello, 300 euro però era veramente buono, mi piaciuto, poi dopo più tardi ti mando l'indirizzo, senti ho bisogno dei soliti 50 milioni, si sente? Ho bisogno di 50 milioni, soliti, ho bisogno dei soliti 50 milioni, perché? Perché ogni mattina io grosso modo devo trovare 500, 600, 800 milioni, un miliardo, questi soldi dove li trovo? Mi indebito, emettendo obbligazioni, oppure vado sul mercato interbancario e li chiedo a chi ce l'ha, senti ho bisogno dei soliti 50 milioni, me li dai a 20 punti base sopra il tasso di sconto? Attenti, ragioniamo così, io e lui, io chiedo un prestito a lui per una certa cifra e prometto di pagargliela un tot in più di quanto non sia il tasso di sconto, che cos'è il tasso di sconto? Questo lo dovete sapere, vi rinfresco solo la memoria, è il tasso che la banca centrale fa pagare alle banche commerciali quando queste prendono a prestito da lei. Notate che ci hanno fatto interessante, io vado sul mercato interbancario, prendo a prestito a 20 punti base, sapete cos'è un punto base, vero? È un centesimo dell'1%, sopra il tasso di sconto, cioè preferisco non andare in banca centrale, preferisco indebitarmi con altre banche piuttosto che andare in banca centrale nonostante che mi costi di più. Perché? Perché la banca centrale è prestatore di ultima istanza. Cosa vuol dire di ultima istanza? Vuol dire che si va a prendere a prestito dalla banca centrale proprio alla fine, proprio quando nessuno ci presta più. Prima, così funziona il mercato interbancario, il regolatore vuole che prima si vada dai propri simili, sul mercato. Io vado sul mercato, faccio un'offerta di acquisto e lui mi farà una controfferta di vendita. Ti bastano 20 punti base sopra il tasso di sconto? Oh, Alessandro, ne vuoi di più, di meno? No, ti basta. Ma sì, ma ci fidiamo, ma so anni che discutiamo, una volta prendo a prestito io, una volta a te eccetera. Ciao, ti saluto, poi ti mando quel ristorante. Rialzo il telefono, chiamo, non so, JP Morgan, Carmela, ciao, sono Fabio Sdogatti, come stai? C'ho bisogno? Ah, no, non ti ho detto che sono andato al mare con tua zia l'altro giorno. Sì, è stato bene? Tutto bene? Sempre voglio darvi questa sensazione di familiarità. Noi lavoriamo insieme da anni, noi ci conosciamo, noi sappiamo. Vi ricordate che non capivate perché BMP aveva fatto la conferenza stampa e io ho risposto perché lo sapevano già tutti? Perché questo fa ogni mattina BMP, Deutsche, City, JP Morgan, Goldman Sachs, si approvvigionano di liquidità sul mercato. Siamo amici, ci conosciamo, forse non ci siamo mai visti. Ci fidiamo l'uno dell'altro, mica firmi qui, come quando andate a ritirare 4 lire per centi in banca, no? Bancario che è quell'essere che vi fa inviperire ogni volta perché non riesce a darvi un servizio dignitoso, non è quello di cui stiamo parlando. 50 milioni, ma che firma qui? Te scrivi che mi hai dato 50 milioni e scrivo detto, no, sì che ho preso a prestito 50 milioni da te, finito, so che ti devo 20 punti base più del tasso di sconto, arrivederci. Ci conosciamo, ci fidiamo l'uno dell'altro. Si capisce questo? Immaginatevi cosa succede quando BMP Paribas arriva da me, io sono, non lo so, non lo so. JP Morgan. Arriva da me, ciao Stogatti, dai fallo te, fai BMP, dai. Ciao Stogatti. Ciao Stogatti, chi sei? Presenta. Io lo so chi sei ovviamente, lo vedo, no? Chi sei? Non ti sento, sento male, chi sei? Sei? Jacopo. Bravo, sei Jacopo. Ah, Jacopo di BMP, eh, e caspita, dillo, no? Non ti avevo capito. Che ti serve, Ia? Il solito 50 milioni. Vuoi 50 milioni? Anche oggi? Senti, Ia, oggi non lo so perché, però c'ho il capo che gli girano e mi ha detto di controllare con lui prima di dare i prestiti. C'è qualcosa che non va. È la scusa tipica di quando non volete fare qualcosa, vero? Lo vedrete quando andrete a lavorare, la scusa tipica di dire, guarda, vi pazienza, ti richiamo fra i 10 minuti, bisogna che su questo senta il mio capo. È vero? È normale. Perché? La risposta è una sola. Perché a te è arrivata la voce, o meglio al tuo capo è arrivata la voce, che BMP non è più un debitore affidabile come lo è stato in passato. Quindi bisogna fare attenzione. Senti, Jacopo, però guarda, ti avviso, oggi a 20 punti base non ci pensare neanche. Sicuramente vuole di più. Ora ci parlo e ti richiamo. Ti richiamo. Jacopo, per quanto li vuoi sti soldi? Lui mi ha detto non più di 48 ore e poi a 40 punti base non a 20. Senti cosa succede? Il costo del credito comincia a salire. Perché? Perché c'è in giro questa sensazione che BMP non è più a good risk. Li vuoi? Forse no, forse di nuovo sei proprio strunzo, abbi pazienza. Adesso faccio così, chiamo Citibank. Chiamai Citibank. Senti un po', oh, maschione, lei è Citibank. Parla con Citibank, telefona di nuovo. Ecco, lui è uno fuori dal giro. Non è questo il problema ovviamente. Il problema è che piano piano questa difficoltà sua diventa conosciuta. Perché poi, no, lo sappiamo come funziona il mondo, ci conosciamo tutti. Jacopo riattacca con me, io alzo subito il telefono, chiamo Citibank, gli dico, Arturo. Ma ha telefonato Jacopo di BMP, voleva 50 milioni, gli ho detto che c'erano delle difficoltà, non li ha voluti. Non è che ha insistito, si ha arrabbiato, ma perché mi tratti così, ci conosciamo da 10 anni, niente. Ha bozzato zitto, zitto, zitto. Ma sai niente di… No, non sapevi niente, adesso sai. Adesso sai che lui ti ha chiamato in seconda battuta. Quindi, cosa sta succedendo nel 2007 sul mercato interbancario? Sta succedendo che comincia quello che abbiamo chiamato il congelamento del credito. Le banche cominciano a non darsi più a prestito le une alle altre. Perché non si danno più a prestito le une alle altre? Beh, la risposta può essere una sola, perché non si fidano. Giusto? Nessuna banca può dire che non ha i soldi, perché basta andare in banca centrale e quella te ripresta. Addirittura te ripresta 20 punti base meno che nel nostro esempio. Però loro in banca centrale non vogliono andare, non vogliono far vedere che il mercato, cioè i loro simili, sta perdendo fiducia. Diciamo che questa perdita, diciamo nel senso che abbiamo concluso molto presto, diciamo già verso fine agosto, avevamo già concluso, che la ragione di questa assenza di fiducia era il fatto che tutte le banche detenevano in portafoglio quelli che poi avremmo chiamato i titoli tossici. Cos'erano i titoli tossici? Faccio subito un esempio, così ci capiamo, non una parola inventata, eh? C'è una letteratura serissima su questa roba. Allora, io sono Lehman Brothers, una banca di investimento, va bene? E ho bisogno di liquidità. Cosa faccio? Vado sul mercato interbancario, oppure metto un'obbligazione. verso il 1980, verso il 1985-1990 scopro un terzo modo. Adesso vi descrivo questo terzo modo. Allora, ai tempi del nonno, quando si comprava un'abitazione a debito, col mutuo diciamo, no? Cosa succedeva? Si andava in banca, si andava dall'impiegato addetto, diceva, buongiorno, io ho bisogno di un mutuo per comprare la prima casa. E lui tirava fuori, lui o lei tirava fuori un foglio dal cassetto, cominciava a fare una quantità di domande per decidere la credit worthness del richiedente, no? Cioè, eri un rischio accettabile per la banca o no? Esempio. Lei lavora? Si. Quanto guadagna l'anno? La signora lavora? Si. Quanto guadagna l'anno? Quanti figli avete? Avete delle altre abitazioni? Avete delle assicurazioni sulla vita? I suoceri sono vivi? Hanno una casa di proprietà? Hanno un conto in banca? in che banca? Sentite? Sentite? Oh, state a capire, datemi un segno di vita, caspita. Lei è mai stato arrestato per ubriachezza molesta? Ha mai guidato in stato di ebbrezza? L'eroina fa parte della sua vita quotidiana? No, mi faccia vedere le braccia. esagero un pochino, non tanto. Alla fine la banca decide che lei ha un rischio accettabile. Le dà un documento da firmare, lei lo firma, la banca le dà i soldi, giusto? No! Le dà un libretto di assegni, uno scoperto di conto corrente e con quello lei andrà dal notaio e farà la sua transazione di compravendita, giusto? Non diciamo cosa succede dal notaio perché sono giovani, menti giovani, meglio non inquinarle. Allora, cosa fa la banca di quel contratto? Ai tempi del nonno. La banca prende quel contratto, lo mette in cassaforte e lo tiene lì per 10, 15, 20, 30 anni, quale che sia la durata del mutuo e aspetta semplicemente che ogni mese, ogni tre mesi, ogni sei mesi il mutuatario vada moneta ad alto potenziale in mano a saldare la rata, giusto? Questo è il modo in cui funzionava il mondo ai tempi del nonno. A un certo punto a qualcuno viene in mente un gioco nuovo e il gioco è questo. Il gioco dice, ma quel signore lì guadagna bene lui, guadagna bene la moglie, i suoceri li possono coprire, eccetera, eccetera, eccetera. È comunque un rischio, no? O no? Se ormai siete cresciutelli, no? E se impazzisce e scappa da casa con la prima ragazzina che gli capita addosso, come fanno? Poi il mutuo chi lo paga? La signora che lavora bene? Eh sì, però c'è un certo ammontare di stress, eh? Il divorzio, la separazione, pesante. E se perde il lavoro? E siccome perde il lavoro, come spesso succede, per fortuna, non se comincia a bere e la moglie lo molla perché diventa alcolizzato, come fanno? Il rischio, o no? E se poi capita una questione sanitaria, pesante, e l'assistenza sanitaria non lo copre per quella particolare malattia, le anime belle rispondono, eh sì, ma tanto la casa è della banca, fino a che non ha finito di pagarla, sì sì è della banca, ma la banca non fa l'agenzia immobiliare, la banca odia l'idea di prendere una vedova e buttarla fuori di casa insieme ai figli perché non può pagare il mutuo, o no? Non lo vuol fare, non vuole mettersi a vendere una casa al 10, 20, 30% massimo del valore effettivo di mercato in un'asta, non vuole combattere con questi problemi, lui è un rischio, quindi emerge questa nuova generazione di bancari, la quale dice, è un rischio? Va bene, però perché non liberarsene? Cioè, creiamo il rischio e lo distribuiamo, l'espressione è proprio questa, create and distribute, creare il rischio e sbarazzarsene, ok? Certamente è un modellino non potentissimo nel caso suo, no? Perché lui è un rischio prime, è un rischio primario, è un rischio accettabile, è un rischio basso, è un rischio gestibile, ma pegliate un po' uno che è al secondo matrimonio, uno o una, che ha figli sia dal primo che dal secondo matrimonio, poi magari ha anche dei figli da un'altra parte, però non si sa molto bene, che è stato arrestato due volte per aver guidato in stato di ubriachezza, che ha perso una cifra a Saint Vincent, che ogni tanto c'è un incidente con l'automobile, perché non lo so, magari anche è nero. O pensavate che il mondo della finanza sia un mondo di vergini? Nero vuol dire subito il rischio pesante. Allora, supponete che io sia veramente intelligente e dica, ma a me che me frega se questo è bianco, nero, verde, a palline, a pua, come che sia? Io faccio una cosa, gli vendo una casa, sulla pianta, in costruzione, è finita, io la vendo, la vendo a lui, che è bello, bianco, sposato, con un figlio maschio e una femmina, che è sempre molto carino, molto equilibrato, molto wasp, no? E lui è un rischio prime. E poi lo vendo a lui, è un nero, che lavora poco, lavora 20 ore a settimana, non si sa dov'è la moglie, perché l'ha lasciata, perché è tipo tipico della cultura del ghetto, lui è un rischio subprime, quindi rischio prime, rischio subprime. Che me frega a me se lui è un rischio subprime. Io a lui, anzi, questo succede, succedeva così, per anni e anni e anni, do condizioni sul mutuo migliori di quelle che do a lui. Per me l'importante è che lui mi firmi questo documento. Ci sono 800 di noi, in una ditta che si chiama Sunrise, posseduta da Lehman Brothers, che ogni mattina escono per andare a vendere case a chi? A chiunque. Rischio prime, rischio subprime, bianchi, neri, sposati, divorziati, cattolici, perfino e i cattolici davano prestiti. Tassisti, coppia di Baltimora, 650 dollari l'uno, handicappati entrambi, 650 dollari l'uno di pensione, gli vendono una casa con un mutuo da 1500 dollari al mese. Non si preoccupi, non si preoccupi, tanto il valore delle case sale, lei compra una casa adesso con questo mutuo, fra tre anni vale il doppio, non si preoccupi. Prendo questo documento, poi prendo il documento che mi ha firmato lui, poi prendo il documento che mi ha firmato lei, tutti noi venditori la sera rientriamo in sede, prendiamo questa roba, la mettiamo in una busta a Federal Express e la mandiamo a New York, al quartier generale, dove gli avvocati di Lehman faranno un lavoro meraviglioso, cioè prenderanno, dammi un foglio, grazie, gentilissimo, prenderanno questa roba qua, che la chiameranno il sottostante, in media 2000-2500 contratti e stileranno un documento a parte che si chiama il derivato, il quale dice c'è un sottostante, il quale genererà del reddito, è vero? La rata sua, la rata sua, la rata di quell'altro, eccetera. Da questo sottostante ricaviamo un reddito che va a remunerare e chi comprerà questo titolo, si capisce? Infatti si chiameranno questi titoli asset-backed securities, questo è l'asset, adesso puoi ripigliarlo e distribuiscelo per favore, gli asset che fanno da backing, che supportano questo, ma che è un documento il quale viene venduto poi, assicurando il compratore che questo documento, che è un'obbligazione, nient'altro, pagherà un rendimento che è il rendimento generato dal pagamento delle rate da tutti quei 2500 maschi, femmine e cantanti che hanno comperato questa casa. Vi piace? Il derivato non è nulla di nuovo, in Mesopotamia i contadini usavano i derivati, quindi non c'è niente di male in questo, va bene, qual è il problema? Il problema è che rendono tanto di più dei buoni del tesoro, per cui tutti voi sul mercato interbancario volete comperarveli, giusto? E metterveli in portafoglio, lo fa Ben Pe, lo fa City, lo fa JP Morgan, lo fa Deutsche, la banca popolare di San Prospero e San Gimignano probabilmente no, ma le banche vere sì. grande domanda tra le banche per questi derivati, le vogliono perché rendono, rendono bene e poi hanno un sottostante, il popolo capisce che quel sottostante è una garanzia, è una garanzia, è un sottostante, è come quando si dice i buoni del tesoro sono garantiti dallo Stato, che vuol dire? Che vuol dire che un buoni del tesoro è garantito dallo Stato? Che cosa vuol dire che le banche, il consorzio interbancario per il credito e il risparmio garantisce i vostri soldi? Vuol dire che ne stampano altri po', se i tuoi soldi vanno in fumo, quelli ne stampano altri po', che è una garanzia? Non scherziamo, però la garanzia non va bene, è un sottostante. Rendono molto questi titoli derivati, tutti li vogliono, c'è un libro molto bello che si chiama, non mi viene il titolo esatto in questo momento, ma in grosso modo è così, when the music stopped, perché c'era stato un chief executive officer di una grande banca che ha una giornalista, che in un'intervista a una giornalista ha la domanda, scusate ma perché compravate questa roba? Non vi sembrava rischiosa? La risposta era, lo sapevamo benissimo che era rischiosa, ma finché l'orchestra suona noi dobbiamo ballare. Cioè, se i buoni del tesoro rendono l'1,5% e un derivato di questo tipo rende il 9, tu che lavori per 12 e porti a casa uno stipendio risibile, 75 mila dollari l'anno, ma puoi avere un bonus fino a 5 milioni di dollari se porti a casa profitti veri? Cosa fai? Accetti il rischio o no? Vedete la concatenazione degli eventi? I tassi di interesse sui buoni del tesoro scendono, i traders sono in difficoltà perché non ce la fanno a generare profitti veri per Lehman o per l'azienda o per Deutsche, quindi comprano titoli più rischiosi. Va tutto molto bene finché l'orchestra suona, si balla, nessun problema. Quando sorge il problema? Quando qualcuno comincia a dire io non li compro. Quindi la crisi viene fuori quando questi titoli cominciano, queste obbligazioni cominciano ad essere rifiutati dalle banche dopo essere stati comperati per anni. Quindi nell'agosto 2007 noi ci rendiamo conto di una cosa molto importante, le banche non si fidano di nessuna altra banca, perché? Perché per anni si sono vendute e comperate titoli di questo tipo, titoli derivati che chiamiamo insisto ABS, Asset Backed Securities, adesso qualcuno comincia a avere dei dubbi, la domanda comincia a scendere, se la domanda comincia a scendere dove va il prezzo? Tende a zero, è vero? Il mercato interbancario si ferma, ecco ci ho impiegato un po' però sono arrivato a un punto ben preciso, il mercato interbancario si ferma. Io personalmente il 14 febbraio del 2008 un incontro su questi temi al MIP e ricordo che c'era la capa della liquidità di Abax Bank, che era la banca di investimento del credito emiliano, la quale disse il 14 febbraio 2008, da ottobre 2007 io non vendo più un euro di obbligazioni, quindi nessuno più dava prestito ad Abax Bank perché nessuno più si fidava delle obbligazioni di Abax Bank, o di JP Morgan, o di Deutsche, o delle banche di credito cooperativo tedesche, o di Mary Lynch, o di Bear Stearns, ecco qual è l'inizio della crisi, non l'inizio cronologico, l'inizio concettuale, l'inizio concettuale della crisi è, è crollato un mondo che era quello del rischio primario, no a lei vada via, a lei il mutuo non glielo diamo, questo era il mondo pre derivati, il mondo post derivati è mutuo per tutti, sapete che a un certo punto in Gran Bretagna esisteva il zero charge plus furniture, cioè zero tasso di interesse sul mutuo e il prestito era non solo per la casa ma anche per l'arredamento della casa, pur di dare a prestito, perché non era importante che poi le persone ripagassero la cedola con regolarità, l'importante era rivendere subito un derivato con un sottostante basato su questi titoli di proprietà, molto bello, molto bello. Perché ho sprecato un'ora e mezzo della mia vita, ho investito un'ora e mezzo della mia vita a raccontarvi questa storia qua? Perché voi avete una idea in testa di questa crisi, come che fosse una crisi del debito pubblico, perché voi guardate la televisione e quello che sentite dire è che bisogna ridurre il debito, perché gli italiani hanno vissuto al di sopra dei propri mezzi, sono balle, c'è la crisi perché la madre di sdogati porta a casa 970 Euro al mese di pensione, italiani che vivono al di sopra dei propri mezzi, per quello c'è la crisi? No, per questo c'è la crisi, la crisi è nata per questo, questa è una crisi nata nel settore bancario, non è una crisi nata nell'economia reale, le supply chains funzionavano perfettamente, il mondo cresceva, al solito chi di più chi di meno, la crisi nasce nel settore bancario, non è una crisi del debito pubblico, non ha a che vedere col bilancio in pareggio, non è vero quello che dice Renzi, non è vero quello che diceva Letta, non è vero quello che diceva Monti, non è vero quello che dice Schoipel, non è vero quello che dice la Merkel, non è vero, è una crisi di origine bancaria, che poi la debba pagare io, ne possiamo parlare, la forza è dire di no, non ce l'ho, la fanno parlare per forza, ma è una crisi bancaria, come in Europa si sia arrivati a immaginare che questa crisi di origine bancaria potesse essere curata con la riduzione del debito pubblico, questo è un mistero sul quale rifletteremo più in là. Allora, ci siete con me? Ci siete? L'economia reale, la produzione, il consumo, le esportazioni, le importazioni, il risparmio, gli investimenti, funzionava tutto, tutto, è il settore bancario che manda in crisi il sistema, perché ovviamente inizialmente non si fanno credito le une con le altre, da lì a non far più credito alle imprese manifatturiere, passe breve, giusto? Non si fa più credito, è il credit crunch, è la crisi del credito. Io vi prego di riflettere con attenzione su queste parole, non sono parole leggere, il mondo non va avanti perché il signor Renzi ha il bilancio in pareggio, dico Renzi perché è lì, lui il pagliacetto adesso, no, potrebbe essere il pagliacetto prima, due pagliacetti fa, quattro pagliacetti fa, non fa nessuna differenza. Il mondo va avanti perché c'è il credito, il mondo va avanti perché lui non ha i soldi, ma si compra la macchina uguale, perché trova qualcuno che gli dà prestito. Se lui non si compra l'automobile, l'automotive, come la chiamate voi, io la chiamo le macchine, si ferma. Se non c'è credito l'economia si ferma, o no? Le banche non stanno dando a prestito e infatti l'economia è ferma. Fatemi un esercizio, lei si scelga un amico o un'amica qualunque e per domani mi porta il grafico 2009 in avanti di M2 negli Stati Uniti e M2 in Europa. Un solo lucido, sulle ascisse il tempo è dal 99 in avanti, sulle ordinate miliardi di euro e miliardi di dollari. Normalizza tutto a 100 nell'anno base, quindi le due curve partiranno da altezza 100 insieme nel 1999. Vediamo come è cambiata M2 in Europa e come è cambiata M2 negli Stati Uniti. Hai capito cosa sto dicendo? No. Sicura? Ti sto dicendo che se gli Stati Uniti vedono il 3% di crescita del 3% del prodotto interno lordo nel 2015 e nel 2016 è perché la loro M2 è cresciuta negli anni, mentre invece le banche europee non hanno fatto crescere M2 e se non cresce M2 non cresce il credito e se non cresce il credito le imprese chiudono e se le imprese chiudono i miei giovani emigrano. E non emigrano perché non c'è credito. Punto. Dopodiché ci calmiamo. Le banche sono imprese, giusto? Devono fare i profitti anche loro. È chiaro che se questa impresa va in banca e dice scusi ho le pezze al sedere mi presta 10 milioni. No. È ovvio che no. È ovvio che le imprese devono venire fuori con dei progetti ragionevolmente di successo, di potenziale successo, però sta di fatto che noi il credito non ne vediamo. Il 23 aprile faremo un dibattito di incontro-scontro, amichevole ovviamente, Marco, Giorgino ed io, scrivetevelo. Dove pensate di andare il 23 aprile? Proprio su questo. Marco prenderà molto probabilmente le difese delle banche, io prenderò molto probabilmente le difese delle imprese e quindi sentirete due versioni della storia, delle versioni diverse e sceglierete quella che vi piace di più. Molto bene. Credito, si ferma il credito. E come mai questi tassi di interesse erano in discesa? Cioè come mai i traders che erano abituati a fare profitti per la loro azienda, comprando e vendendo buoni del tesoro, a un certo punto sono passati a questa roba rischiosissima che sono questi derivati o asset backed securities? Beh, noi diciamo, noi la professione, che grosso modo ci sono quattro fatti coincidenti, coincidenti vuol dire nell'arco di 15 anni, che portano a questa crisi del credito. Va bene? Quindi questa crisi del credito, secondo gran parte degli economisti destra, centro e sinistra, questa crisi del credito è dovuta alla coincidenza di quattro fattori. Primo. Il primo è il successo della bilancia commerciale cinese. Quando un paese accumula un saldo di bilancia commerciale positivo sistematico, saldo di bilancia commerciale positivo vuol dire valore delle esportazioni superiore al valore delle importazioni e questo fa la Cina da 25 anni, beh, quel saldo positivo viene neutralizzato da che cosa? Da un movimento di capitale finanziario in direzione opposta. Banalmente. Se lui è la Cina ed esporta verso di me Stati Uniti per 100 dollari, ma importa da me solo per 80 dollari, io pago il 100 che prendo 80 con esportazioni mie e 20 con liquidità, giusto? Banale, no? Cosa fa il produttore cinese con quei 20 dollari di eccesso? La risposta è, beh, ovviamente li deposita in banca commerciale, io non mando il pagamento a lui, no? Lo mando alla sua banca corrispondente di Shanghai, giusto? normale. Cosa fa la banca commerciale di Shanghai con i miei 20 dollari? Risposta, li dà alla banca centrale cinese, perché non può detenere dollari. Come la banca centrale cinese paga questi 20 dollari? Non in banane ovviamente, ma in renminbi, quindi in valuta nazionale cinese. Quindi vedete che io accredito 20 dollari sulla banca commerciale del produttore cinese. Banca commerciale del produttore cinese deposita 20 dollari in centrale. La banca centrale in cambio di 20 dollari gli dà l'equivalente renminbi, lei adesso accredita sul suo conto una certa cifra in renminbi. Il produttore cinese potrà comprare materia prima in renminbi, pagare salari in renminbi, comprare sigaretti in renminbi e andare a cena fuori in renminbi. Tutto normale. Cosa ci fa la banca centrale con questi dollari che continuano ad accumularsi? In questo momento sono circa 3.500 miliardi di dollari in deposito presso la banca centrale cinese. Riuscite a concepire questo numero? Un numero difficile. 3.500 miliardi di dollari. Che ci fa? La risposta è che ne so. Una cosa è certa. I dollari non rendono nulla. Non si può tenere migliaia di miliardi fermi a non rendere nulla. Per cui la banca centrale cinese a partire già dal 1990, quindi molti di voi probabilmente non erano nati, no? Giusto? Ti è rinato? Per disgrazia nostra o per fortuna? Vedremo. Comincia ad accumulare dollari che vende per comprare titoli del debito pubblico statunitense. Ok? I quali rendono. Attenzione che parlo di anni e anni fa. Oggi sapete molto bene la banca centrale cinese finanzia la China Investment Corporation, che è un'azienda statale. La China Investment Corporation compra per esempio pozzi petroliferi in Nigeria o terra da coltivazione in Somalia. C'è un libro molto bello, un po' vecchiotto ormai, che vi consiglio di leggere, che è un giallo, un poliziesco, di un signore che si chiama Henning Mankell, che è il caposcuola degli scrittori di polizieschi svedesi. È un libro che si chiama Il Cinese, quindi come poliziesco non vale niente perché il titolo vi dice chi era assassino. Subito. Però vi racconta quali sono le attività di investimento cinese in Africa. È veramente molto bello. Henning Mankell. In Italia è pubblicato da Marsilio. Allora, oggi, così come fanno tanti governi, la Cina ha la sua China Investment Corporation, non so, gli Emirati hanno il, come lo chiamano, Emirates Global Fund, quindi la Norvegia ha un fondo sovrano di questo tipo, si mettono dei soldi in un fondo e poi questo fondo viene utilizzato secondo le decisioni del governo. Quindi, oggi, la Banca Centrale cinese mette a disposizione del governo un tot di questi dollari e il governo ci fa quel che vuole. Ma 25 anni fa, anche 15 anni fa, non funzionava così, 15 anni fa ci si comprava buoni del tesoro. Non si faceva che una Banca Centrale finanziasse l'acquisto di proprietà reale in altri paesi. Oggi si fa. Bene, comprava buoni del debito pubblico statunitense. Adesso fatemi riposare un po', santi Dio. Qual è l'effetto di una domanda addizionale di buoni del debito pubblico statunitense dovuta agli stramaledetti cinesi che arrivano sul mercato americano? Qual è l'effetto? Un aumento del prezzo dei titoli del debito pubblico americano, cioè una diminuzione del rendimento. Ah! Quindi guardate che cosa succede. Gli Stati Uniti comprano dalla Cina più di quanto non vendano alla Cina. Il saldo lo devono pagare in contante. Quel contante va in Banca Centrale cinese, la quale ci compra a titolo del debito pubblico americano, il che aumenta di prezzo rispetto a quanto sarebbe stato se non ci fossero stati i cinesi, il che vuol dire che diminuisce il rendimento. Adesso se tu fai il trader per JP Morgan e sei abituato a tassi sul debito pubblico americano del 7% e questi cinesi stramaledetti te lo fanno cadere piano piano al 6, al 5, al 4, al 3. Tu cosa fai? Dove porti a casa il tuo bonus? Come fai? La risposta è semplice. Vai alla ricerca di impieghi alternativi e se ti viene fuori Lehman Brothers, dico Lehman perché è un nome che dovreste conoscere tutti grossomodo, no? Se ti viene fuori Lehman Brothers che ti dice? Ah bello, guarda un po' c'è un bel derivato ABS, paga il 9,5%, vuol comprare? E tu che gli dici? Ni, è certo che però è porca miseria i tassi del debito pubblico continuano a cadere e cominci a comprare. Prima coincidenza che porta alla crisi del credito è la liquidità in arrivo dalla Cina. Il secondo avvenimento è la crisi delle cosiddette dot com del 2000. Allora guardate cosa succede su questo grafico, avete il Federal Funds Effective Rate, quindi il tasso di sconto, il tasso a cui la banca centrale statunitense dà prestito alle banche commerciali statunitensi. Guardate quant'era prima del 2000, in salita dal 99, dal 5 al quasi il 7%, numeri incomprensibili per voi che non siete ancora nati, vero? Perché voi a che numeri siete abituati? Quanto è il tasso di sconto sul Federal Funds Effective in questo momento? Quanto è? Zero, è zero. Da sette anni il tasso di sconto è zero. Quanto è il tasso sui depositi per la Banca Centrale Europea? Quanto è? Lo sapete? Valla a guardare, domani ce lo dici, scrivi. Voglio sapere quanto è il tasso di sconto, quanto è il tasso sui depositi e quanto è il tasso su... basta, quei due mi bastano. Negativo, è negativo. Voi non potete capire quei numeri lì. Voi dovete cercare di capire cosa vuol dire essere un trader che deve portare a casa lo stipendio, il bonus, facendo profitti. Guardate quanto è facile portare a casa quando i titoli pagano almeno il 5, 6, 7, 8, 10%. È facile. A un certo punto nel 2000, vedete quel piccolo plateau, cosa succede? Succede la crisi delle dot com. Cos'erano le dot com? Per tutti gli anni 90 c'era stato uno sviluppo importante delle tecnologie ICT, un enorme quantità, un enorme aumento del prezzo delle azioni di queste aziende. Pensate che in Italia a un certo punto si quotò in borsa un'azienda che si chiamava, non mi ricordo come, punto net. Allora, siccome punto net dava l'idea di internet, il prezzo di quell'azione schizzò al cielo nel giro di poche settimane. Faceva i jeans, neanche buoni. Però la psicosi era tale per cui tutto ciò che era dot com o dot net veniva percepito come una macchina da soldi. Nel 2000 questo giochino si spezza. Comincia la vendita di massa sul mercato di New York. Adesso chiedetevi, cosa fa una banca centrale quando vede una crisi in the making, in progress, quando vede una caduta importante del prezzo dei titoli sul mercato azionario? Cosa fa la banca centrale? La risposta niente, non va bene. L'avevamo già vista con la risposta nel 1929, fu un disastro, quindi adesso qualcosa si fa. Si fa una cosa semplice, guardatelo cosa si fa. Si taglia i tassi di interesse, si taglia il tasso di sconto. Perché? Perché si taglia il tasso di sconto quando il mercato azionario va in crisi? Beh è semplice, soltanto che dovete ragionare come un essere umano e non come un contadino bergamasco o calabrese per carità, uguale, vi fate illusione. Allora, qualcuno di voi possiede azioni? Se lei volesse comprare delle azioni, con che cosa le pagherebbe? Continuando a rubare i soldi al nonno quando dorme e poi va in banca, mi vende tot di azioni. La gente normale non fa così. Gli investitori le comprano con soldi che non hanno. Così come le famiglie comprano le case con soldi che non hanno e lo chiamano il mutuo, ma questo viene ritenuto un fatto normale, così gli investitori comprano azioni con soldi che non hanno. Cioè l'espressione tecnica è a margine. Io vado in banca, gli dico cara banca, mi compra 100.000 dollari di General Motors? E la banca mi dice, e li sordi? E io gli dico, non ce l'ho. E lei mi dice, guardi, per piacere, facciamo così, mi dia 10.000 dollari di buoni del tesoro in garanzia, uso la parola garanzia per tenervi buoni, ma non è una garanzia, non illudetevi mai, le garanzie non esistono, non c'è garanzia di nulla mai. Tutto è rischioso, poco rischioso, tanto rischioso, meno rischioso, ma garanzie zero. Lui dice, mi dia 10.000 dollari di buoni del tesoro, compra le azioni, se le tiene, così come si tiene la casa quando vi dà i soldi per il mutuo, e a quel punto possono succedere solo tre cose. Il prezzo delle azioni sale, passa da 100.000, il valore investito passa da 100.000 a 120.000, io lo chiamo e dico al direttore, venda per piacere, porto a casa il 20.000 che non avevo, giusto? Lui mi ridà il bot che era il mio, io gli pago ovviamente una commissione più o meno ricca, siamo tutti contenti. Seconda cosa che può succedere è che non succede niente, per mesi e mesi e mesi, quell'azione è sempre lì, che vale 100.000, 99.000, 97.000, 103.000, io lo chiamo, direttore ma non si muove l'azione, si è sdogati, che vuole da me, cosa le posso fare? Però lui è contento perché intanto incassa la commissione perché mi sta prestando 100.000 dollari, no? La terza cosa che può succedere è caduta del prezzo di queste azioni, da 100.000 va a 91.000, la faccio corta, a 91.000 lui mi chiama e mi dice sdogati guardi che lei mi ha dato 10.000 dollari di margine, ma quei 10.000 dollari se li è quasi magnati perché il 100.000 che valevano le sue azioni, che glielo ho dati io, adesso vale 91, quindi io mi dà altri 10.000 di garanzia, di margine, chiamatelo margine, non garanzia, oppure io vendo e sdogati paga, perché lui si piglia 9.000 di differenza dal margine che gli ho lasciato giù io, giusto? Più commissioni, mi piace così? Quindi se è vero che grosso modo la famiglia Brambilla compra le azioni pagandole con i risparmi, è sicuramente vero che un investitore, una società finanziaria compra sempre a margine, lo potete fare anche voi, non fatelo per carità, però potete andare su una piattaforma che vi consente di giocare, per esempio 500 Plus o Saxo Bank, potete giocare e vedere cosa vuol dire comprare senza avere i soldi, senza comprare senza avere tutti i soldi, va bene? Allora, è chiaro che se c'è una caduta del prezzo delle azioni molto forte io ho la tentazione a vendere, a meno che, a meno che non mi arrivi la mia banca e mi dica, sdogati, guardi, la banca centrale ha appena abbassato i tassi di interesse, quindi non venda che sta perdendo un sacco di soldi, se le tenga queste azioni, il margine aggiuntivo glielo presto io, quindi io già le ho dato un 10.000, me lo sono speso quasi tutto perché le azioni hanno perso di valore, vorrei vendere e lei mi dice, glielo presto io altro 10.000 di margine, è il suo lavoro, no? È una banca, no? E lei mi darà un interesse basso rispetto a quello che mi avrebbe dato prima, perché la banca centrale ha abbassato i tassi di interesse, quindi il tasso a cui lui si è finanziato per dare margine a me è un tasso basso, siccome il tasso è basso una parte di noi investitori accetta di non vendere, quindi il fatto che la banca centrale abbassi il tasso di interesse rallenta il processo di vendita, calma l'investitore marginale, il quale rimane sul mercato e non fa e non contribuisce ad un eccesso di offerta di titoli, bello? Guardate la banca centrale come taglia, vedete come taglia rapidamente, guardate quanto è steep, come è forte la pendenza, la derivata prima di quella curva in discesa, questo vuol dire che di x di t è altissimo, quindi la banca centrale taglia mese dopo mese, perché non vuole che la gente venda. Ovviamente, come dicono gli inglesi, quando piove diluvia, settembre 2001 le torri gemelle. Cosa succede quando vanno giù le torri gemelle? Succede che vi viene paura, vi viene paura a tutti, quindi tutti vendono, vorrebbero vendere tutte le attività finanziarie, incassare le liquidità e metterle sotto il materasso, giusto? Si può consentire una cosa così? Ma siamo matti. Hai comprato delle azioni a 100 euro a pezzo, le rivendi a 10, 15? È una distruzione della ricchezza delle famiglie e delle imprese che fa paura, non può essere consentito. Cosa fa l'autorità monetaria? Indovinate cosa fa? Cosa farà? Taglia i tassi di interesse, di nuovo, eccolo qua, il secondo taglio del tasso di interesse. Eccolo qua, vedi? Questo qui, guarda come finisce, bang! Fate il trader, lo vedete il trader? Il trader che si strappa i capelli e dice come faccio a fare il bonus? Come faccio a fare la mia quota di profitti con i tassi di interesse sui titoli del debito pubblico che scendono a quella velocità? Come faccio? E la risposta è ovvia. Cerco altri titoli a rendimento più alto, anche se più rischiosi. Quindi potete vedere quasi fisicamente che mano a mano che cade il tasso di sconto, diminuisce la domanda di titoli del debito pubblico da parte dei traders e aumenta la domanda di titoli derivati, di ABS. Senti come cresce questa cosa, eh? Molto interessante. Ora, qualcuno dice, ah, la banca centrale non doveva tagliare così tanto i tassi di interesse. la politica è per definizione sempre opinabile, giusto? Renzi, secondo lui è un genio, secondo lui è un fesso. Chi c'ha ragione? Boh, non lo so. Non è così? Il governatore della banca centrale forse ha sbagliato, forse ha fatto male. Boh, chi lo sa? Secondo me ha fatto bene, ma secondo lui no. Non è così. Una cosa voglio sappiate. Voi siete cresciuti in un'epoca in cui il concetto di mercato è stato trasformato in un'icona. Il mercato miracoloso che sa tutto, che fa tutto, i mercati, i mercati, i mercati. Marco Giorgi, i mercati, i mercati, i mercati. Sapete cosa fa il governo statunitense nel momento in cui vanno giù le torri gemelle? Chiude. Prende il presidente, lo carica su Air Force One e lo manda in cielo, lontano dagli Stati Uniti. Nessuno sa però che fa la stessa identica cosa con il presidente della banca centrale. Il presidente della banca centrale statunitense stava tornando da Basilea, dove aveva fatto un incontro con altri banchieri centrali. Era in mezzo all'Atlantico e US Air Force lo riporta indietro verso Basilea. Non lo fa rientrare negli Stati Uniti. Perché? Perché la banca centrale è uno strumento di una potenza paurosa, è un agente di una potenza paurosa. Non si può perdere il presidente, ma non si può perdere neanche il presidente della banca centrale. E che cosa fa il presidente della banca centrale statunitense? Indovinate cosa fa? Chiude i mercati. Questo luogo santo nella testa di certe persone viene chiuso dall'autorità di politica monetaria. Volete vendere tutti? Volete rovinare voi stessi? Volete rovinare il paese? No! Io chiudo i mercati per tre giorni. calmatevi. Non dovete vendere adesso. Quando riapriremo, fra tre giorni, io vi farò trovare a un costo risibile una quantità di liquidità essenzialmente senza limiti. Potete avere tutta la liquidità che volete. Non vendete. Aspettate. Non è successo niente. Si capisce cosa sto cercando di dire? Abituatevi a pensare che esiste un governo. Questo governo non è Renzi o Merkel, è il governo con la G maiuscola. È un apparato dello Stato che governa l'economia. Insieme al governo c'è la banca centrale. Il governo governa il gettito e la spesa, come sapete dai modelli SLM, la banca centrale governa i tassi di interesse e la quantità di liquidità nel sistema. Sono cose che voi sapete, queste in particolare, ma che non avete mai sentito raccontare nel quadro della gestione della crisi. Che anni sono questi? Sono gli anni della cosiddetta bolla immobiliare. La parola bolla è una delle parole che mi nervosiscono di più, perché non significa niente. Tu non sai che c'è una bolla fino a che non scoppia, giusto? E se non sai finché non scoppia, non serve a niente il concetto di bolla. Quello che serve è il concetto di tassi di interesse bassi e di domanda aggregata forte. Certo di abitazioni, ma scusate cosa comprano le famiglie quando i tassi di interesse sono bassi? Cosa comprano le famiglie? Prima cosa che la famiglia compra è una casa, la seconda cosa è una casa più grossa, la terza cosa sarà una macchina, la quarta rifà i cesti di casa, giusto? È così, no? Quindi per forza c'è la bolla immobiliare. Le banche cosa comprano quando i tassi di interesse sono molto bassi? Comprano le case? Cosa compro? Asset backed securities. Comprano i derivati. Più basso il rendimento sui titoli del debito pubblico, più derivati comprano. Che è un'altra bolla, è una bolla finanziaria stavolta. Bene, adesso chiudiamo, se no le corde vocali vanno in malora. Guardate cosa ho fatto per voi. Vi ho invitato a riflettere sul fatto che questa crisi si manifesta sul mercato interbancario. È una crisi che non ha a che fare con l'economia reale, non è voluta dai governi, perché ci sono crisi volute dai governi. Ci sono. Quella presente è voluta dai governi. Lo dimostreremo. Non è dovuta all'economia reale, non è voluta dai governi. Nasce nel settore bancario. E come nasce? Nasce dalla coincidenza di quattro cose. La permanenza e anzi la crescita dei salti di bilancia commerciale cinese. La politica monetaria di espansiva a partire dal 2000 della banca centrale statunitense. Quella che abbiamo chiamato innovazione finanziaria, non ho mai usato questa espressione, ma il modo nuovo di cedere mutui è innovazione finanziaria. E poi c'è una quarta cosa che non abbiamo fatto in tempo a vedere, adesso la accenno soltanto, che è la fine della separazione fra banche commerciali e banche di investimento. Nel 1999, regnante il presidente Clinton, viene definitivamente abolita la legge bancaria del 1933, viene con essa abolita la distinzione fra banche commerciali e banche di investimento. Qualunque banca può cominciare a fare qualunque cosa e quindi finisce un mondo. Il mondo che finisce nel 1999 è il mondo rappresentato da un signore che vedete molto spesso a fianco del presidente Obama, un signore che si chiama Paul Volcker, è un omone ultraottantenne, il quale vorrebbe reintrodurre questa distinzione tra banche commerciali e banche di investimento. Le banche ovviamente non accettano assolutamente questo tipo di idea, ma questo lo discutiamo dopo. Quindi, la crisi, vi prego, usate le parole giuste, la crisi si manifesta nell'estate del 2007, non nasce nell'estate del 2007, nasce a causa della coincidenza di questi quattro fenomeni su un arco detto di circa 15 anni.